90 i piloti che hanno preso parte all'undicesimo autoslalom città di Castelbuono, tra questi diversi quelli di Sciacca. Tra le Racing Start al primo posto di classe Lorenzo Bonavires sul Renault Clio, che ha portato a casa anche la seconda posizione di gruppo. Tra le vetture di gruppo N al comando Ignazio Bonavires su Peugeot 106 di cilindrata 1006, che ha vinto sia la classe sia il gruppo, chiudendo anche in decima posizione in classifica generale. A seguire, al terzo posto di gruppo e primo di classe N1004, il giovane Marco Segreto su Peugeot 106-1004. Sia le vetture di Lorenzo e Ignazio Bonavires, sia quella di Segreto, sono seguite dal team Patacco. Tra le vetture bicilindriche, ottima prestazione per Pierluigi Bono, che con la sua Fiat 500, curata dal team Coppola Motori, oltre a portare a casa la prima posizione di gruppo e di classe, ha ottenuto anche la nona posizione assoluta. Per la cronaca, la gara è stata vinta da Emanuele Schillace su Radical. Le foto sono di Manuel Marino. E passiamo al podismo. A Menfi è andata in scena la ventesima edizione delle Strade del Vino, ottavo trofeo Daniele Puccio, gara podistica valevole come quinta prova del Grand Prix di corsa su strada della provincia di Grigento. 200 gli atleti al via, due le gare ufficiali, una di 5 km suddivisa in tre giri, per le categorie maschili over 60 e le donne, tutte le altre categorie invece hanno corso 4 giri per un totale di quasi 7 km. La gara è stata vinta da Nicola Mazzara del CUS Palermo, al secondo posto il marocchino Bumalik Abdelkrim dell'Atletica Canicattì, a chiudere il podio il seccense Alberto Fieramosca della Marathon Club. Per la gara riservata alle donne, ennesima vittoria di Liliana Scibetta della Pro Sport Ravanusa, vera dominatrice assieme a Bumalik del Grand Prix Provinciale 2019. Alle spalle della Scibetta, Maria Puma della Favara Runners, terza piazza per Alessandra Calafato, anche lei della Pro Sport Ravanusa. Ben 43 i seccense in gara, tesserati per la Tartaruga, la Gatocle e la Marathon Club, oltre a Indelicato e piazza tesserati con l'Atlon Rivera. Tanti premiati per la sciacca del running, 9 i seccensi che sono andati in premiazione. Si tratta di Giuseppina Maria Baldassano della Gatocle, prima di categoria SF45, Rosario Chiaramonte della Gatocle, seconda di categoria SF60, Andrea Di Giovanna della Tartaruga, secondo di categoria SM65, Alberto Fieramosca della Marathon Club, primo di categoria SM45 e terzo assoluto, Ivano Nicolosi della Marathon Club, primo di categoria SM35, Enzo Fazio della Marathon Club, secondo di categoria SM50, Alessandro Mucaria della Tartaruga, secondo di categoria SM40, Michele Guzzardo della Marathon Club, terzo di categoria SM50, Giuseppe Epifanio della Gatocle, primo di categoria JM. La gara di Menfi era valida anche per l'assegnazione dei titoli di campioni provinciali FIDAL Agrigento 2019, individuali di categoria Senior, Master, maschile e femminile. Ecco i seccensi che si sono aggiudicati questi titoli. Alberto Fieramosca della Marathon Club, campione provinciale 2019, della categoria SM45, Ivano Nicolosi della Marathon Club, campione provinciale 2019, della categoria SM35, Alessandro Mucaria della Tartaruga, campione provinciale 2019, della categoria SM40, e Giuseppina Maria Ballassano della Gatocle, campione provinciale 2019, della categoria SF45. Domenica, 14 luglio, il Grand Prix di Corsa su strada della provincia del Grigento prosegue il suo cammino a Calamonaci, dove si disputerà la sesta prova del circuito provinciale.